Sembra un'ottima cosa No Arnold 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 Ok andiamoci a prendere questa dannata pistola Allora La situazione non mi piace per questo Cazzo quello era morto prima Quello era morto era morto Eh si eri morto tu prima Ok fermi calma devo ragionare Colpiscilo ok vieni di qua Vieni di qua vieni di qua Vieni 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 Bastardo Cazzo ho messo in pausa anziché sparare Ok questo è un problema Ok fermi fermi Bastardo che cazzo è l'ha trapassato Ok Posso prenderla sta roba Ok abbiamo ottenuto la pistola del tipo Ora possiamo tornare indietro si suppone No figa lo sapevo Che cazzo sei Che cazzo Oh Oh sono in 300 Sono in 300 Sono in 300 Delle termopili questi Muori 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 Ok uno l'ho seccato Muori bastardo Guarda che Guarda che roba Ok 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 Calma Calma Sta registrando tutto si Adesso non ce ne saranno altri fuori vero No Ok perfetto Allora Ragazzi Perfetto Questo qua è già il nuovo episodio Andiamo a prendere A consegnare la pistola al tipo Sperando che magari ce la lasci ragazzi O che ci dia qualcosa in cambio in sostanza E poi proseguiamo Io so già cosa dobbiamo fare Perché purtroppo me lo sono spoilerato fuori parte Perché sono un ritardato L'hai trovata Sì l'ho trovata Fantastico E La mia pistola è ancora totalmente carica Sembra che non sia stata utilizzata per nulla Comunque Ehm È il momento di uccidere alcuni di questi bastardi Cosa sta facendo questo? Cosa ha fatto? Li ha ammazzati? Sembra che li abbia ammazzati Ero fu- Ero là fuori Ehm Oddio Questi- Cioè O signore Non so come tradurlo in italiano Home hand Questi mostri sono così brutali Ho utilizzato quasi tutti i proiettili che avevo Ne ho ucciso- Ho ucciso un po' di quelli insomma E ne ho- Ne ho feriti molti altri Ma quelli che sono ancora feriti Sono ora facili da uccidere Questa sembra un'ottima cosa Ehm Potrebbe aiutarci un sacco Grazie Non c'è nessun problema Ehm Sono io che devo ringraziare te Quindi Questo è tutto ciò che posso- Che sono riuscito a fare per te Buona fortuna Ok ragazzi Marta? Ethan? Sì? Vieni da me Se hai il tempo Eh per forza Non è con molta scelta Ehi ragazzo C'è qualcosa che devi fare per me Minchia ancora È molto importante Ehm Ok perfetto La daycare Perfetto Ci sono alcuni allenatori Che sono venuti ad allenare A far Diciamo A levare i nostri pokemon Da noi Ehm Che bei tempi Mi sa raga che dobbiamo Entrarli dentro E seccare qualche pokemon Che è stato infettato Ehm Ho fatto un po' di viaggi Con la memoria Insomma Ah dovrebbe esserci Un uovo di pokemon Ah se fosse un po' Con di tipo Acqua Con di tipo volante Potremmo fuggire Possibile Ma questo non è importanza Per ora È una creatura vivente Che non è ancora nata E forse possiamo E non possiamo lasciarlo lì da solo Ok perfetto Dobbiamo andare alla daycare Dopo ragazzi Si dovrà andare alla stazione dei treni Perché fuori parte Purtroppo Dopo lo scorso episodio Mi è cresciato tutto Intanto teniamo la chiave Mi è cresciato tutto E quindi ho dovuto rifare l'episodio E Parlando per sbaglio Due volte con Dave Mi ha praticamente detto Che adesso si può accedere Alla stazione dei treni Che possiamo provare A riparare il treno Per provare a fuggire Geniale No non è che ci potevamo pensare prima Ok Allora Adesso Possiamo andare quindi Alla daycare E prendere quel maledetto strumento Tra l'altro ragazzi Alla fine non ho ascoltato Le canzoni del music player Perché non avevo tempo Ok Stiamo per entrare Io mi sto cagando già addosso Ok Sono abbastanza convinto Che non ci fosse Questa parte di pensione Prima O che non fosse Così grossa Perlomeno Ok perfetto Altra canzone E poi ci sarà Quella da prendere Via 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 No Sì cos'è È morto Vaffanculo Pensavo già di dover sclerare male Tanto raga Fisso che prendo l'uovo Ed entrano degli zombie Figuratevi se Figurati se non è così Trovato l'uovo Grazie a Dio Luogo È luogo L'uovo è salvo Ma comunque Devo stare molto attento No Non ci credo Che lo state facendo davvero Non ci credo Che lo state facendo davvero Muori 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 Ma va a cagare Non ci credo Guardali Che cancri Che cancri Vieni Vieni qua Guardalo che schive i colpi Muori Cazzo Mi si sta spaccando l'uovo Ragheo Cioè avevo Cosa Tu eri morto Tu eri Eri dannatamente morto Da dove appaiono Oh calma Io devo riportare assolutamente l'uovo Devo riportare l'uovo Sennò questo qua si spacca È già un miracolo Che non si sia distrutto Io non vorrei già Che Quelle tre tacche scomparsi Indichino appunto Il fatto che Aiuto Non ci sono altri sopravvissuti No Perfetto L'hai trovato? Sì Ma si è rotto Mi dispiace È rotto? Vuoi dire che È morto Cazzo Non sono riuscito a proteggerlo Maledizione È così triste Un'altra vita non nata È stata uccisa Eh Eh vaffanculo Seppellirò quell'uovo Raga Non Purtroppo Cioè l'avevo intuito Ma quel monkey lì Mi ha colto di sorpresa Ok HP up Mi ha dato Oh perfetto Ci sono Ci si sono aumentati Ci si sono Ci sono in sostanza Aumentati gli HP Questa è un'ottima cosa Se noi avessimo Le cure dell'infermiera Joy ma non ha ventole Purtroppo Non possiamo fare chissà cosa Fermi Salviamo perché Poi Fermo Salva Ok Io non so neanche Non so neanche tenendo il tempo Ragazzi Quindi non saprei Come siamo messi A livello di tempistiche Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni Bastarda Ok No scappa Guardala che mi Mi ingroppa male Guarda che mi ingroppa male Muori Figa Muori Oddio Dov'è quell'altro Ne avevo visto un altro Sono sicuro Guardalo lì Infognato nella merda Proprio John frog Guardalo John frog Vieni qua Cazzo intrincato Scemo Scemo Ok Perfetto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Schiatta male Ok Perfetto Raga sto pensando Io vado a curarmi ancora da gioia Abbiamo ancora Due cure Con questa che andiamo a utilizzare Una sola Io spero vivamente che il gioco sia verso la fine Perché altrimenti non ce la faccio a tirare avanti Ve lo dico Andiamoci a curare Perché Oppure raga Provo a salvare Provo a farla così Sperando di trovare magari qualche pozione E vabbè nel caso Ritorno a quel punto lì E mi curo Boh Vediamo un po' come va Dobbiamo entrare qua dentro Se Dave non mi ha detto boiato Ok si Prima era chiuso Arnold Si Ehm Tempismo perfetto Se vogliamo utilizzare il treno Dobbiamo cercare di rimettere a posto L'energia Posso riparare l'elettricità Ma il problema è che ci sono un sacco Ehm Chissà perché me l'aspettavo Guarda Ehm Da questa parte Figa Mi sto cagando addosso E non so se ce la faccio Fermi Sediamoci In maniera decente Vieni qua Torniamo dentro Finchè raga Finchè possiamo utilizzare Questa strategia Utilizziamola perché Non sarà facile Non sarà facile Non sarà facile Non sarà facile Muori Muori Mannaggia a te Muori Figa Oh 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 Queste corrono come se non ci fossero un futuro Come se non ci fosse un futuro Non so più l'Italia L'ho shottata Che culo Tutti del team rocket poi questi tra l'altro Devi morire Muori male Ok ce l'ho fatta Proseguiamo Cos'è questo Nulla Non è nulla Ok allora calma Questa prima parte sembrava facile Questa un po' meno Perché questo qua corre come un mongolo Muori Muori Vieni qua E schia Vieni 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 Dove vai Vieni qua Vieni qua Muori Ok Oh se Oh che bellezza Per ora di pokemon di verino Però non ne ho visti sinceramente Oh vieni qua Devi Deve Tua madre deve morire in tangenziale Tirata sotto dai tir Qui Ok Oh le Perfetto Alcuni ci vogliono 5 colpi Altri 3 Io non capisco Tipo questo qua Non è che l'ha shotto No Anzi poi c'era ovviamente Quella che ho shotato in un colpo Io continuo a sbagliare Il porco 2 di tasto Vieni Ok perfetto Ce l'abbiamo fatta Quanti cazzo di PS ha Brando 7 Noi abbiamo una bacca Fermi Ho una bacca Utilizziamo la bacca Ok Ci siamo Terzo piano Vaffanculo Chissà perché Me l'aspettavo Guarda Stammi lontano Dio caro Stammi lontano Cancro La malattia L'esiste Guardalo che Scorreggia Veneno Figa Vieni qua Manco riesco a colpirlo Questo io Muori Muori Vaffanculo Devi morire Dove sei Sì Sì Ok Sì si è smembrato Non mi ha avvelenato Per ora Per fortuna Oserei dire Ok Eccoli Maledetti pocondi Tipo veleno Ok questa qua è un'area tutta normale No Veloce 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 Ok posso prendermi un po' di campo Sì ma non muore Ma non muore Non muore No Guarda Che Che scandalo Le ho sputato Dieci braceri Non è morta Sta qua Cristo Allora No dai Già sento scorreggiare veleno Guardati Ma Ma vergognati Vieni qua Guardalo che lo attraverso Guardalo Vieni Vieni Dio caro Devi venire qui Ok No eh figa Mi sono inculato da solo Ok sono riuscito a sopravvivere Non ci credo Ok Sì ma sto schiattando malissimo Raga non ce la farò mica Non ce la farò mai Allora O torno indietro e mi curo adesso Sarebbe un'idea O prego che più avanti ci sia Una pozione Un qualcosa Un Un pisello che mi rigeneri l'energia Non ne ho idea Ciccione di merda Vieni qua Vieni qua brutto obeso Vieni Vieni bravissimo Ok tu non mi crei problemi Voi non mi create problemi Nei campi aperti Spazi aperti Non campi aperti Campi aperti sono quelli dove Petrarca andava e Piangeva Ok però non sento scorreggiare veleno Mi sembra un'ottima cosa Scendiamo le scale Mi sto Vaffanculo C'è la mamma bigola C'è la mamma puttana Vieni qua Guarda Che evita l'attacco proprio eh Muori Guardalo lo scorreggiatore professionista Devi morire Guarda che cerca pure di prendermi Oh Cristo Allora Fermi Dov'è lo scorreggiatore Vieni qua Jack Blue was here Chi cazzo è Jack Blue Jack Blue Non vedo nulla di blu io qua Vieni qui Ok ok Solo due colpi No forse gli avevo tirato Gli avevo tirato qualcuno prima Non lo so Ok tu Vieni qua Vai Sali Sali Non fare Non fare il timido Ok Perfetto Dai che stai schiattando Dai che me lo sento Che sei in procinto di perdere la tua esistenza Vieni qua Ti procuro l'eutanasia al cervello Perfetto Ci abbiamo fatta Ok Forse è finito il tutto Dimmi dissi se c'è un boss bestemmio Ho paura No 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 Non andare così più Pshh etan Chi Chi è Cosa ci fai qua Oh Sei tu Eh Anch'io mi stavo cagando in mano L'elettricità dovrebbe La scatola dell'elettricità Dovrebbe essere Qua in giro Sembra un'ottima cosa No Arnold 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 No Figa No Non ci credo Non è che io sia infettato Vero Forse non lo sono Va tutto bene Eh no Al cazzo C'ho paura Fa malissimo E Non sono venuto così lontano Per morire qui Non succederà nulla qui Va tutto bene Vero No non va tutto bene Per un cazzo Continuiamo il nostro lavoro Cerchiamo l'elettricità Adesso Ok Eh Minchia Sta andando da solo Questo qua A un certo punto Se giro Lo devo ammazzare Raga è scontatissimo Eccolo qua Vediamo che cosa C'è di sbagliato Qui Eh Che cosa Z Qualcun altro È stato qui Il treno Eh Se questo non funziona Voglio dire Qualcuno Ha distrutto L'intera elettricità Della città Eh Non ho i pezzi Elettrici Non ho i pezzi Per ripararlo In sostanza Ah Maledizione Quindi E adesso Non ne ho assolutamente Non ho una fottutissima idea Eh Sono arrabbiato adesso Non funziona nulla Nulla E il mio braccio Sembra che stia bruciando Abbiamo fatto tutto qui Non c'è nulla da fare Torniamo indietro al nascondiglio Raga no Io c'ho paura No 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 Devo parlarti Vai avanti Forse c'è qualche mostro rimasto No dai Non puoi dirmelo così Chi sei No tu mi sembri quasi sana Cosa No Non è possibile E questa non è Chiara Che cosa state facendo qui Chiara Il capo palestra Pensavo che fosse andata via Dimmi Che cosa state facendo qui Ehi Calma Siamo sopravvissuti Come te Stavamo Tentando Volevamo Reinstaurare la città E l'elettricità Per far partire il treno Così avremmo potuto scappare Da Golden Road City Sì Ma Purtroppo Qualcuno ha già danneggiato Ho il dubbio che sia chiara Qualcuno ha già danneggiato La scatola di elettricità Esattamente L'ho fatto io Eh lo sapevo Non vi permetterò Di far partire il treno Sei fottutamente pazza Il treno è la nostra unica speranza Ha ragione Che cosa Che cazzo di problema hai Ehm Qual è il problema Di utilizzare il treno La volete mettere così Ok Ma che cosa sta facendo La vostra ultima speranza Di uscire di qui Ethan Quella sta impazzendo Sai che cosa c'è da fare Dobbiamo ucciderla Voglio dire Non ci farà scappare Stiamo Moriremo sicuramente Per colpa sua Ehm Morire Potremmo morire Noi o lei Cosa sta facendo Cosa No Sei pazzo Lei è un essere umano Forse ci sta solo spaventando Sta solo provando a stressarci O è solo stressata Forse è solo spaventato È solo stressata Dalla situazione Non lo sappiamo Ehm Abbiamo tutti Dei momenti difficili Nooo No mi vien da piangere raga Sul serio Mi vien da piangere Mi vien da piangere È vaffanculo Mi vien da piangere Mi vien da piangere Grazie a tutti.